Una scuola che evolve e che modula la propria offerta in funzione delle esigenze delle imprese del territorio e dell'andamento del mercato del lavoro, dal turismo alla ristorazione, dall'edilizia all'agricoltura all'artigianato. Il PFP, polo di formazione professionale della provincia di Sondrio, presente con le due sedi del capoluogo e dell'Istituto Vallessana di Sondalo, ha aperto le proprie porte per un Open Day rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie che vogliono decidere come orientare la scelta dei loro studi dopo la scuola media. Abbiamo una buona affluenza dove sfoggiamo i nostri sette profili che spaziano dall'agricolo, già avviato quest'anno, all'evergreen edile, sartoria, abbigliamento, sartoria abbigliamento, acconciatura estetica e ristorazione sia cucina che sala bar. Che interesse percepite ai vostri corsi? L'interesse è abbastanza alto, noi sfoggiamo sempre i risultati, quest'anno il 96% dei diplomati dell'anno scorso si sono già tutti occupati e questo è il nostro fiore all'occhiello. Quindi il PFP conferma la propria validità formativa e soprattutto un legame molto stretto poi con le opportunità professionali date dal territorio? Assolutamente sì, il legame col territorio è sempre forte, nascono nuovi profili come questo agricolo nato quest'anno proprio l'esigenza del territorio di formare nuovi profili, nuovi ragazzi per delle specialità nuove. La formazione professionale sta vivendo un momento di grande rinascita possiamo dire? Assolutamente sì, perché? Perché le tante ore di pratica sono cucina per allevatori di domani, per acconciatori di domani, per tutti coloro che avranno a che fare con un lavoro pratico. Fino a quando c'è tempo per iscriversi? Le iscrizioni quest'anno si sono aperte il 7 gennaio e salvo eventuali proroghe vengono chiuse il 31 gennaio. Tutte le informazioni sui corsi sul sito www.pfpvaltellina.it Le iscrizioni si effettuano online, ma in caso di necessità le famiglie possono chiedere supporto alla segreteria delle sedi di Sondrio e Sondalo.